Ultimi preparativi in vista della partita di Coppa Italia contro il Trapani in trasferta, che effetto fa ai giocatori biancorossi pensare di affrontare il Trapani a pochi mesi di distanza da quella partita sventurata? Diciamo che è un altro tipo di partita, ci siamo parlati tra di noi e abbiamo detto che è tornare proprio a Trapani, però va bene, inizia un'altra stagione, andiamo lì e cerchiamo di fare la nostra partita, loro sono di un'altra categoria quest'anno, però penso che ce la potremmo giocare anche, spero meglio, alla fine dell'anno scorso. Sicuramente non siamo al top e nessuno sarà al top in questo periodo, però è molto importante cercare di passare il turno e molto importante cercare di migliorare ancora per arrivare al meglio alla prima di campionato. Quest'anno sono arrivati tanti giocatori, il mercato praticamente è concluso, che tipo di squadra si è venuta a creare? Intanto colgo l'occasione per farlo in bocca al lupo a Fumagallis, che è andato via, è stata creata un'ottima squadra, adesso probabilmente un po' diversa da quella che avevamo l'anno scorso, bisogna trovare nuovi meccanismi perché cambierà, credo un po' il modo di giocare, stiamo già lavorando su queste cose qua, però penso che la squadra sia di livello, poi ovviamente è il campo che dirà quanto, però io sono molto contento e molto fiducioso come ero all'inizio dell'anno scorso. Giandonato, Bolis, Cattaneo, la concorrenza centrocampo si è fatta molto agguerita. Sono contento perché più c'è concorrenza provi a migliorarti, comunque anche l'anno scorso c'era molta concorrenza perché poi Torquari è stato fuori inizio anno, ma non si può dire che, anzi, è un giocatore da cui ho imparato anche molto. Sono contento, la squadra per essere competitiva, come avevo già detto, deve avere qualche opzione in più, non può avere 11 giocatori, quindi è giusto così e poi sono bravissimi ragazzi, quindi ci giocheremo genuinamente il posto.